L'accidente guidato dall'America ci considera criminali! È giunto il momento di ponirlo per tanta arroganza! Se l'11 settembre è stato la madre di tutti gli attentati, noi organizzeremo la nonna di tutti gli attentati! Molto bene, tenente! L'obiettivo si trova in una stanza al primo piano! Armare il Golia! Che diavolo sta succedendo? Ma che roba è? Ci siamo impossessati di un satellite e lo abbiamo puntato sullo stadio! Francesco, sbagliati! Inizia! Roma Est, però, pensavo peggio! Pensavo... Alessandro Santini! Ma che t'ho fatto io? Mi dovete desiderare! Tu mi vedi? Perché non dovrei? Fa' attenzione! Con i vantami non si scherza! Ehi, giovanotto! Che ne dici di divertirci un po'? Ho come l'impressione di aver dimenticato qualcosa! Stannazione! Dove diavolo è la squadra di Roma? È bloccata nel traffico, signore! Questa città è un inferno, signore! E quando arriverà il giorno del giudizio? Li precipiterà tutti in un lato di pece bollette! Fermate quei bastardi ad ogni costo! Li voglio a Guantanamo o in una bara! Per fortuna è che siamo i buoni! Penso se fossimo stati cattivi! Fermate tutto l'orvescio, amiche! Fermalo! Fuoco! Fuoco! Questa città è un figlio! Grazie a tutti.